Torniamo in studio e lo facciamo con un film che parla di sinistra. What is left? Gli autori, i registi, sono due giornalisti, coppia sul lavoro ma anche nella vita, Luca Ragazzi e Gustav Hofer. Luca Ragazzi è collegato con noi da Bologna, benvenuto. Ti lo dico io. Eccoci, siamo in onda, siamo in onda Luca. Luca, con noi in studio c'è uno dei protagonisti di questo film, protagonista su Malgrado, possiamo dire così, che è Fabrizio Barca, benvenuto. Grazie. Luca, cominciamo proprio da te. Il film esce oggi, What is left? È il terzo atto di una trilogia sull'Italia. What is left vuol dire che cos'è la sinistra ma anche che cosa è rimasto della sinistra con un gioco di parole? Voi avete fatto, vi siete messi in giro con la vostra cinepresa per circoli, per manifestazioni, per realtà appunto della sinistra. L'avete trovata? Alla fine penso di poter dire che l'abbiamo trovata ma non era affatto facile trovarla. bisogna cercarla nei posti giusti in realtà, quindi abbiamo smesso di cercarla dove tutti penserebbero di trovarla e abbiamo cominciato a guardarci un po' intorno per trovarla meglio, diciamo. Però è stata una ricerca molto proficua che ci ha anche riconciliati con una parte di politica, per esempio in un'epoca in cui ormai la diffidenza verso la politica aumenta, invece secondo noi il messaggio del film vuole essere proprio che la politica è una cosa molto bella e che bisogna crederci ma che bisogna anche impegnarci, infatti noi nel film abbiamo scelto di seguire per esempio due giovani parlamentari alla loro prima legislatura che sono Celeste Costantino Di Selle e Enzo Lattuca del PD, entrambi molto giovani e entrambi però molto preparati e assolutamente seri e quindi volevamo dare anche questo segnale in un momento in cui, ripeto, anche per via del Movimento a 5 Stelle c'è questo moto di diffidenza, diciamo, verso la politica. Cominciamo subito con il trailer, allora, di What is Left, vediamolo. La Gustav! Eh? Ma che è sta carta igienica marroncina? Eh, l'ho presa dall'Eco Solidale, carina, è di carta riciclata. Ma che orrore, ma riciclano pure la carta igienica adesso, ma non ho parole. Costacchia, costacchia, devono andare tutti a caccia! Parlare adesso di destra e sinistra, perché non ho mai concetti superati, eh? È una cosa grandiosa. Il contratto a tempo determinato è una scelta che dà libertà. Beh, io so solo che in quarant'anni non ho mai avuto il contratto a tempo indeterminato. E non ti avevo mai pagato. No, no, qui non ci stiamo capendo. C'è un senso di responsabilità. Cioè, sono stanco del senso di responsabilità. Non abbiamo vinto, anche se siamo arrivati i primi. Che vuoi che facciano destra e sinistra insieme? Litigheranno per sei mesi e poi si andrà all'elezione. Poppa! Sì, sì. Cosa significa oggi essere di sinistra? Fare i bravi casalinghi organici alle donne. Finché ci sarà una disuguaglianza ci sarà bisogno della sinistra, quindi questo significa essere di sinistra. Il tema dei migranti, i temi legati alle donne, la violenza, il carcere. Se non se ne occupa la sinistra, non se ne occupa nessuno in questo paese. Ministro Franceschini, le possiamo fare una domanda? No, grazie. Adesso invece è tornato finalmente una persona capace. Sono sicuro che sarà il segretario del partito, sarà il primo ministro. È una persona incredibile, incredibile. Ha parlato di visione. Luca, ragazzi, sai che alla prima proiezione del film qualche giorno fa qui a Roma c'era anche Fabrizio Barca che ha visto e si è divertito molto ma l'ha presa anche molto seriamente, vero Barca? I loro film, e non ci hanno deluso, i loro documentari sono notevoli, riescono a essere ironici, farsi seguire, prendere in giro, costringere a farsi sfottere e però hanno un messaggio, più un messaggio, poi ognuno li legge come tutti i documentari nel suo modo. Quindi a me è piaciuto molto. Allora, poi ci torneremo su Barca perché appunto, come dicevo, ha una parte importante in questo film. Però, ragazzi, voi andate a chiedere a vari politici qual è la differenza tra destra e sinistra. Partite proprio da una domanda di base, da una domanda importante e fondamentale. Abbiamo visto, lo chiedete a Franceschini, lo chiedete a Barca e poi lo sentiremo. L'avete capito qual è la differenza tra destra e sinistra? Che cosa vi hanno risposto? Ma noi fondamentalmente la sapevamo già, la differenza tra destra e sinistra. Quello che ci stupiva e ci stupisce è che invece c'è tutta una nuova generazione, soprattutto di ragazzi che oggi hanno 20-30 anni, che sono cresciuti in questo ventennio scellerato, per cui pensano davvero che non ci sia più nessuna differenza tra destra e sinistra. Ecco, a me questo sembra lunare. Quindi questo film ha proprio come fine ultimo quello di farci capire che la sinistra c'è e che ce n'è un gran bisogno in realtà. Quindi poi si può sindacare, si può dire che magari quella che abbiamo visto negli ultimi anni non era proprio la sinistra dei nostri sogni e fin qua siamo quasi tutti d'accordo. Però il fatto che ci sia una differenza sostanziale e fondamentale fra destra e sinistra, insomma, non c'è bisogno che io stia qui a dirlo. Fra l'altro nel film a un certo punto lo andiamo a chiedere proprio a Fabrizio Barca che ci dà proprio una definizione precisa con la sua capacità anche oratoria, veramente da pelle d'oca, no? E quindi, così come anche Stefano Rodotà, insomma, è importante poi, come dicevo prima, chiederlo alle persone giuste. Allora poi vedi che la capisci la differenza. Visto che Barca però qui in studio la richiederei, mi rendo conto, insomma, con una frase di quelle fulminanti, la differenza tra destra e sinistra, cosa qualifica l'anima della sinistra? Ma nel punto che loro hanno accotturato di una lunga conversazione che era il migliore, devo dire la verità, ero terrorizzato di capire cosa avrebbero dato nel documentario. Dico giustizia e lavoro. Giustizia vuol dire mettere tutti nelle condizioni, rispondo a loro, di vivere la vita che vorresti vivere indipendentemente da dove sei nato e da chi ti ha partorito. E lavoro vuol dire essere consapevoli che tra lavoro e capitale nel capitalismo esiste una differenza di potere negoziale e quindi non siamo tutti uguali. E quindi questa differenza di potere negoziale richiede un'organizzazione del lavoro e richiede una battaglia continua. Detto in altri termini, come diceva il grande Paolo Silo Slabini, il capitalismo persegue profitto. E se noi siamo bravi e lottiamo e lo incalziamo, lo produrrà non sfruttando il lavoro ma inventandosi nuove idee e nuove innovazioni. Questi sono due modi di sinistra. Ce l'eravamo persi in questi scelerati vent'anni. In giro la gente li sa, li conosce, ma se tu non le racconti, non ne parli, la gente non ti riconosce e non si riconosce in te. A un certo punto nel film Luca Ragazzi, affascinato dalle parole di Fabrizio Barca, decide di andare a leggere il suo manifesto scritto alcuni mesi fa, prima della nuova legislatura, prima delle elezioni. Vorrei rivedere insieme a voi questo pezzo. Oddio, questo piangere. No, è, va bene. No, mi basta, mi sono spazzato, non posso più. È assurdo, vada a vivere in America, cioè sei ridicolo, non immagina lo svegliamo con te che sei anti-ubana? È assurdo, no? Vabbè, però, a me dire. Gustaf, prendi il computer che leggiamo al manifesto di Barca. Sì, ma leggi tu, che sono stanco. Punto 5. La tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico storico e la promozione della cultura sono beni pubblici e richiedono un continuo e intenso confronto fra visioni diverse che dia rilievo agli interessi di generazioni future che non possono ancora far valere le proprie convinzioni. Punto 8. L'esistenza in determinati luoghi di trappole del sottosviluppo, con una persistente sottoutilizzazione delle risorse umane e materiali e la negazione di condizioni di pari opportunità in genere dovuta alla consapevole scelta delle classi dirigenti di privilegiare interessi distributivi rispetto a interessi generali. No, io non capisco niente. Quanto sei superficiale? Ma non è che sono superficiale, che sono tutte cose che parlano di economia e che non è proprio il mio campo. La distruzione è una parte fondamentale. Sì. L'azione pubblica dello Stato è limitata da un deficit cognitivo, ecco il mio deficit cognitivo, la conoscenza necessaria essendo dispersa fra una moltitudine di soggetti dal rischio di cattura da parte di interessi particolari. Me lo puoi spiegare? Non l'ho capito, io sto leggendo. Prova, proviamo a capire. No, 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 no. Va bene. No, 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 no. Quando capisco te lo dico. Luca ragazzi Fabrizio Barca ha appena commentato crudeli diretto a voi ma in realtà poi è buffo perché rivedendo questa scena ormai non mi sembra assolutamente complicato quel linguaggio però devo ammettere che la prima volta che l'abbiamo letto era anche tardi la sera ci è sembrato veramente ostico però in realtà io apprezzo assolutamente il tentativo di Barca di invitarci tutti a insomma alzare il livello culturale della conversazione, del dibattito e in realtà questa scena è preceduta da una scena in cui io dico esattamente questo, in questi ultimi vent'anni ci siamo tutti abbruttiti cioè uno poi dice sempre che la colpa è di Berlusconi ma in realtà abbiamo tutti partecipato a questo abbruttimento collettivo in diversa maniera e il risultato è che oggi di fronte a un testo forbito che ci insomma implica un certo grado di concentrazione non siamo più neanche abituati, questo non ci fa onore, evidentemente la responsabilità è nostra non è certo di Fabrizio Barca che anzi ci ha provato e a mio avviso ci è anche riuscito Barca Ma c'è un punto importantissimo, due osservazioni, loro stessi, questa questione della complessità del messaggio Lei lo sapeva? Nei test, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, ho rischiato, ho rischiato anche perché i tempi, quando a un certo punto ci sono i tempi per fare delle cose quel documento andava tirato fuori quando l'ho tirato fuori, stava finendo il governo Monti mi ero reso conto, lavorando e facendo il ministro della Repubblica di quanto grave fosse l'assenza di dibattito culturale, di presenza dei partiti nei territori molto più dall'Aquila, al Sulci, San Reggio Calabria, al Nord Italia fai azioni di governo e non hai un partito che dà alla società la possibilità di starti addosso come ministro cioè di attaccarti, non di dirti quanto sei bravo, ma di attaccarti non gridando di attaccarti dicendo hai promesso di fare questo, non l'hai fatto, eccetera Comunque la cosa interessante è che in un pezzo che abbiamo visto prima loro, quello del test quando questa straordinaria persona continua a fare a loro una domanda ditemi sì o no e loro continuamente non dicono mai sì o no e ci segnalano che la semplificazione non è possibile loro stessi ci raccontano che la soluzione dei problemi complessi della nostra società richiede delle soluzioni che sono complesse ovviamente poi vanno semplificate in un momento televisivo, in un momento di dialogo io personalmente mi auguro di trovare questo momento quando parlo quando incontro in giro per il Partito Democratico i circoli ma c'è un momento di complessità a cui dobbiamo ritornare con coraggio perché se pensiamo che ci siano scorciatoi e semplificatori ci dicono il messaggio che io ricevo da loro e che non ci sono loro si rifiutano di rispondere sì o no all'intervistatrice dell'incredibile quiz Ecco Luca, ragazzi a me pare di capire insomma che c'è anche un tentativo molto legittimo e importante forse da parte di alcuna politica vedi Fabrizio Barca di chiamare i cittadini a fare uno sforzo per avvicinarsi anche loro verso la politica non soltanto la politica verso di loro e poi ci sono le primarie del PD tra qualche giorno il vostro film esce proprio a ridosso è stato un caso perché non si parla poi né di primarie né insomma dei candidati che andranno alle primarie allora ci sarà forse un appendice? il film in realtà comincia con le primarie dell'anno scorso quelle del novembre dell'anno scorso nel frattempo sono successe tantissime cose quindi da quel successo che ci avevano tutti ringalluzziti ma non la svolta? no in realtà poi purtroppo qualcosa è andato storto e noi nel film cerchiamo proprio di spiegare cosa in modo che i posteri magari fra vent'anni vedendo questo film possano capire ma che è successo in quel bizzarro 2013 perché sono successe tante cose e non era facile cercare di spiegarle in realtà il film lo abbiamo chiuso a settembre quindi abbiamo scelto di non stare a aspettare poi abbiamo pensato invece di essere pronti per uscire questa sì, questa assolutamente è stata una strategia di marketing potremmo dire perché ci divertiva l'idea di uscire proprio in questi giorni e in effetti ecco qua che ne stiamo parlando quindi è come se si chiudesse un po' il cerchio c'è un punto, una frase pronunciata da un iscritto del PD che è illuminante sembra forse potrebbe essere pronunciata quasi in un film di Moretti comunque insomma una frase di tanti anni fa sembra venire dal passato l'elettore di sinistra che dice sono stanco del senso di responsabilità noi abbiamo in sostanza anche perso non ci sono venuti dietro quanto avrebbero dovuto perché noi siamo stati seri grazie o a causa del nostro senso di responsabilità gli altri invece non hanno fatto la stessa cosa ecco, secondo te è anche un po' un problema questo cioè la sinistra non fa troppa autocritica? ma no, non credo la sinistra è molto brava a fare autocritica forse la fa troppo tardi, la fa dopo dovrebbe imparare a farla un po' prima però la sinistra l'autocritica la sa fare molto bene no, è vero che il senso di responsabilità di cui parla quel ragazzo di quella sezione, cioè del circolo perché oggi si chiamano circoli, il circolo dell'esquilino nella fattispecie lui dice noi abbiamo cercato di imporre agli italiani il senso di responsabilità e loro non l'hanno voluto quindi è inutile che noi siamo qui a cercare di imporgli e che è proprio vero perché nel momento in cui dall'altra parte c'è un avversario che invece ti dice ma andiamoli tutti a casa sono tutti uguali, sono tutti ladri è ovvio che se poi invece tu chiedi agli italiani anche un certo impegno un certo rigore cioè non era esattamente una scelta vincente però io l'apprezzo nel senso che secondo me non poteva essere diversamente da così insomma dobbiamo tutti, tutti riconoscerci e riconoscere che parte anche da noi il cambiamento non possiamo solo delegare magari cliccando likes su Facebook non è così facile insomma Barca, agli italiani non piace il senso di responsabilità insistere con l'autocritica sentivamo Luca Ragazzi che però è importante fa anche la differenza non può rischiare poi se perdura troppo di deprimere ma non devi stare a rimettere in discussione sempre tutto però anche io con ragazzi penso che non sia questo il punto prima di tutto perché ahimè a questa autocritica a volte non hanno fatto seguito i fatti, lo dico con molta sincerità non è che all'autocritica dei comportamenti dei partiti il Partito Democratico in tutte le regioni italiane dalla Sicilia all'Emilia Romagna alla Lombardia abbia poi dimostrato quando ha esercitato potere di non occupare gli enti pubblici di non utilizzare il partito come uno strumento per andare avanti più qualcuno di qualcun altro non è stato così Enrico Berlinguer nel 1977 già vedeva quello che poi è avvenuto quindi l'autocritica va bene ma poi alla gente gli interessa le chiacchiere fino a un certo punto gli interessa vedere nei comportamenti la cosa sua importante è questa ognuno di noi, ogni italiano, ognuno di noi può vivere sempre due vite può giocare la partita vecchia della corruzione di dare una mano, di dare raccomandazione o gioca una partita nuova ogni tanto vedere i politici che si comportano male ti dà l'alibi di comportarti male anche a te questo sì, per questo la sinistra è costretta ad avere senso di responsabilità però a praticarlo C'è un faro che è quello della politica di Barack Obama soprattutto Gustav Hofer è un grande sostenitore vediamo quest'altra clip dal film Oddio questo piange quando sente Obama Sorry, basta, non ce l'ho scoperto è assurdo, va a vivere in America cioè sei ridicolo ogni mattina lo svegliamo con te che sente Obama è assurdo, no? Vabbè, però ammettere che è un discorso bellissimo Sì, è un discorso bellissimo è retorica Non è retorica, amore è uno che propone una società dove parla di egualianza lui parla di diritti civili che da noi nessuno di sinistra o vabbè di destra neanche però neanche di sinistra mi sembra il centro del dibattito Ed ecco il comunista modello Beh, questo è tutto da verificare Questi sono Luca e Gustav sono elettori di sinistra o almeno ce la mettono tutta sono sempre nel posto giusto al momento giusto Il 25 aprile? Un appuntamento immancabile per la liberazione o per le salsicce? Non lo sapremo mai Ovviamente non mancano mai un gay pride Difensori convinti delle conquiste del passato non si rivolgerebbero mai ad una clinica privata Ecco il solenne discorso di Gustav al risveglio dall'anestesia La sanità pubblica va molto bene Sono molto contento Luca, ragazzi Il messaggio che vorreste uscisse da questo film è anche un motivo per cui dovrebbero venire a vederlo Beh, in realtà il messaggio è che appunto come dicevo prima che c'è una gran voglia di sinistra e che bisogna un po' tutti definirla insieme quindi bisogna capire quali sono adesso le priorità e quali sono i termini che definiscono la sinistra dei nostri sogni parole come laicità, come diritti come uguaglianza come sanità pubblica e quindi il film vuole un po' dibattere su questo non credo di poter dire che alla fine il film trovi la risposta però da tanti suggerimenti quello sì Grazie, grazie Luca Ragazzi se vuoi resta ancora qualche istante con noi perché volevo chiedere a Fabrizio Barca prima parlavamo di Obama il modo in cui Obama ha fatto la sua campagna elettorale è stato non solo il web gli americani il web lo usano ma soprattutto l'elemento vincente andare porta a porta mandare i suoi ragazzi porta a porta lei ha fatto per diversi mesi si è appena concluso un viaggio un ritorno alla base del territorio delle sezioni per tutta quanta Italia sei mesi di viaggio nei circoli del PD cercava delle buone pratiche ce ne dica qualcuna che ha trovato Guardi, ho trovato innanzitutto molti giovani come i due personaggi chi vedrà questo documentario e vedrà il deputato di Selle giovane la deputata di Selle giovane del PD sappia che ce ne sono molti altri che ho trovato in quei territori le ho trovate in buone pratiche le ho trovate da Saluzzo dove si affronta in maniera forte e significativa un'improvvisa presenza di immigrati che arrivano sul territorio a raccogliere la frutta durante l'estate l'ho trovata a Milano e a Bologna dove ci sono forme di partito rete che è però il primo momento in cui contatti le persone e poi dopo ci parli perché la rete è un posto straordinario per capire chi potrebbe essere interessante incontrare ma poi la discussione la soluzione dei problemi la ritrovi se ti incontri l'ho trovata a Cagliari dove ci sono circoli alzi, tra l'altro fanno riferimento alcuni a Renzi alcuni a Civati che sono vivaci che vogliono rompere con i vecchi modi che si preoccupano di stare addosso al comune di Cagliari che non gli sta ancora dando quello che si sperava dare dopo tanti anni che la sinistra non l'aveva l'ho trovata a Catanzaro o a Castro Villeri dove si tratta di fare battaglie molto dure dove c'è l'Andrangheta lì l'ho trovata a Bagnara dove c'è una segretaria di circolo straordinaria l'ho trovata in uno deputato di Siracusa cioè sono esperienze territoriali importanti il partito sta rinascendo più nei territori che a Roma Ecco, un progetto che lei vuole continuare e per farlo ha messo su un ricorso ad una piattaforma di crowdfunding cioè di raccolta fondi molto trasparente come funziona proprio in questi casi e l'obiettivo sono 40.000 euro per continuare a viaggiare e a cercare cosa la base, i cittadini possono insegnare alla politica a quanto siete arrivati? Credo stasera, cancellando anche i bonifici stiamo al 10% dopo tre giorni c'è molto ancora da fare ma se li troviamo lavoreremo in una dozzina di posti quelli dove abbiamo trovato il meglio per affiancarli e mostrare nei fatti non a chiacchiere che c'è un partito nuovo che può nascere e che persino l'altro giorno ne parlavamo con gli amici e i compagni di Prato un partito che torni ad essere presidio delle questioni del territorio a trovare soluzioni a stare addosso anche ai propri sindaci lo proveremo in una dozzina di posti se i fondi arriveranno altrimenti farò un passo indietro Siamo per concludere abbiamo veramente qualche istante ancora per parlare i punti imprescindibili penso alle primarie all'otto che dovrebbe avere il suo segretario del PD ma prima una persona che capisca che c'è una potenzialità straordinaria il PD è un'associazione come tante altre ci sono 300-150 mila iscritti di questi 100 mila sono persone notevolissime sottoutilizzate sono il luogo dove fare rinascere dove stare addosso alle questioni del territorio secondo di cambiare lo statuto del Partito Democratico che è vecchio è stato scritto sbagliato non avevano capito Obama quando l'hanno scritto hanno scritto un partito dove l'organo di indirizzo è fatto di 200 persone no un partito dove non si riesce a discutere un partito che non ha una piattaforma a rete informatica che colleghi circoli quindi un segretario che si impegni in questo ho trovato una persona ho trovato in Civati la persona dei tre candidati che in qualche modo si è esposto di più non tutto quello che dice io concordo però è la persona per la quale domani potrei dire l'hai fatto o non l'hai fatto Luca Ragazzi lei cosa chiederebbe al nuovo segretario del PD? di avere più coraggio più coraggio di tutti quelli che lo hanno preceduto perché c'è bisogno di un gran cambiamento questo è sicuro Fabrizio Barca un attimo fa diceva bisogna riscrivere lo statuto del PD si propone come estensore? no perché le nostre idee le abbiamo già messe sul tavolo il 14 di dicembre saremo a Bologna ne metteremo altre sul tavolo si può farlo in maniera trasparente è passato il tempo dei ghostwriter o di quelli che stanno dietro anche questo vuol dire cambiare dal prossimo segretario non ci aspettiamo un'innovazione fatta della sostituzione di un clan con un altro clan ma un cambiamento di metodo un partito aperto dove si discute dove si si confronta e soprattutto diciamoci la verità dove si rimettono al centro i valori di sinistra almeno giustizia e lavoro poi ce ne sono altri 5-6 importanti che nel documentario escono fuori giustizia e lavoro i primi due valori Luca ragazzi vuoi aggiungerne un terzo? ah beh c'è l'imbarazzo della scelta allora giustizia e lavoro diritti mi sta molto a cuore diritti ma anche laicità mi sta molto a cuore che è una parola che non è diventata tabù e che invece bisogna assolutamente riconsiderare tutti per quel che significa veramente che è un'imbarazzo